Ciao a tutti, io sono Midori Yuriko e ben ritrovati sul mio canale. Anche nel video di oggi voglio continuare a parlare della mia esperienza di studi in Giappone alla Aqua Academy di Chioto, una scuola di lingua giapponese per stranieri e in particolare volevo soffermarmi sulle prime settimane di scuola e parlarvi un po' in generale di come sono state. Prima però di entrare nel vivo del discorso voglio farvi due velocissime premesse. La prima è che nel caso in cui capitiate su questo canale per la prima volta con questo video vi consiglio caldamente di andare a vedere anche gli altri filmati in cui parlo sempre della mia esperienza di studio in questa scuola. Infatti ho già caricato i video in cui parlo del primo giorno di scuola in cui si è tenuto il test ingresso e del primo giorno di lezioni ovvero il secondo giorno di scuola che però essendo un video un po' lungo ho diviso in due parti e quindi c'è la parte 1 e la parte 2. In questo modo così voi potete avere un po' tutti i pezzi del puzzle e io non ho bisogno sempre di ripetermi e dire le stesse cose. Secondariamente se vi interessano i miei video ricordatevi di iscrivervi al canale e mettete anche un bel pollice in su. Comunque non voglio perdere altro tempo e quindi voglio ritornare subito al discorso di questo video. Allora nella puntata precedente ci eravamo lasciati con io che ero tornata a casa dal primo giorno di scuola ed ero sconvolta perché non capivo assolutamente nulla, i professori parlavano solo giapponese e quindi volevo solamente piangere, fare le valigie e scappare via dal Giappone. Comunque nonostante questo mio stato d'animo molto negativo e comunque le cose sono iniziate presto a migliorare. Ovviamente la prima settimana è stata abbastanza un po' confusionaria, ero abbastanza scombussolata perché ovviamente dopo il primo impatto che è stato un po' uno shock, una bella doccia fredda, anzi proprio gelida. Ovviamente ho avuto bisogno di un pochino di tempo per riprendermi anche perché poi ovviamente ero appena arrivata in un altro paese in cui non conoscevo nessuno, dovevo fare ancora amicizia con i miei conquilini, i miei compagni di classe e quindi ovviamente ci sta che essendo un po' spaesati così, essendo tutto nuovo, è facile ovviamente farsi prendere un po' dall'emozione. Però comunque dopo quel primo giorno di scuola, visto che i giorni successivi continuavo a tornare a casa viva, insomma mi sono fatta un po' coraggio, ho cercato di mantenere i nervi saldi, fare un bel respiro e insomma razionalizzare un po' la cosa perché anche se comunque metti caso anche che la scuola fosse andata male, continuavo a non capire niente, così il peggio che mi poteva capitare era prendere dei votacci, cioè anche proprio facessi delle verifiche terribili, al massimo prendevo dei brutti voti, non è che stessi andando in guerra, insomma ovviamente uno non è che possa comandare le sue emozioni, però ovviamente mi sono insomma un po' detto ok va bene tutto nuovo così, però insomma non esageriamo, ecco non c'è bisogno di andarsi a buttare nel fiume o insomma mettersi a piangere. Ovviamente ho avuto bisogno anche di un po' di tempo per potermi abituare a tutta la mia nuova vita anche all'interno della scuola, quindi conoscere i professori, capire il loro metodo di insegnamento, capire come si svolgevano le lezioni perché comunque i professori tenevano ad avere un metodo abbastanza schematico che poi si ripeteva sempre, quindi dopo questo primo periodo di rodaggio le cose sono andate sicuramente molto meglio perché poi ci sono stati anche due fatti che mi hanno un pochino rincuorato e almeno ho scoperto di non essere l'unica che non capiva niente perché insomma il mio timore subito all'inizio era quella di essere insomma un pochino l'ultima della classe, cioè l'unica che non capisce niente, che prende solo dei votacci, però alla fine per fortuna non è stato così. Anche perché poi nella mia classe ovviamente c'erano comunque anche degli altri studenti che avevano iniziato a studiare giapponese in Giappone proprio quel trimestre lì e anche loro si trovavano un po' in difficoltà perché anche loro avendo studiato nel loro paese erano abituati a studiare giapponese spiegato nella loro madrelingua e quindi mi ricordo anche che dopo i primi giorni c'era una mia compagna ungherese che anche lei ci aveva detto alla fine delle lezioni ma ragazzi ma sono io l'unica che non capisce niente cioè i professori loro parlano io proprio non capisco una parola e quindi quando ho sentito quella sua confessione io veramente sono sono rinata praticamente perché ero lì che dicevo per fortuna che non sono l'unica che non capisce assolutamente niente e poi una cosa che poi effettivamente mi ha anche molto stupito è anche che gli altri ragazzi che erano lì da parecchi mesi che magari avevano iniziato a studiare giapponese proprio da zero in quella scuola e quindi erano lì anche da nove mesi proprio perché gli altri prima della mia classe c'erano altre tre classi perché io poi ero nella quarta anche loro mi avevano detto poi che c'era stato un salto grandissimo c'è proprio un abisso tra la terza e la quarta classe e quindi questo ovviamente mi ha ancora un po' più incoraggiata perché poi anche loro dicevano che per esempio c'era anche un mio compagno belga che a lui per esempio non piaceva molto il nuovo libro perché lo trovava molto più difficile mentre invece loro erano prima abituati come me all'università con il minano nihongo sia il volume 1 che 2 che poi facevano nei nove mesi precedenti e quello ovviamente un testo molto più facile rispetto a quello che avevamo noi perché anche solo mettendo la confronto il minano nihongo parte con le frasine d'esempio il piccolo dialoghino cioè invece lì il nuovo testo cioè partivi con la lettura di almeno una pagina 2 con tutto il lassico nuovo con tutte le forme grammaticali nuove che poi ti venivano spiegate successivamente anche gli esercizi d'ascolto no quel dialogo cioè non erano lì dieci battute come quelli del minano nihongo cioè erano anche una pagina due forse anche tre anche per loro era stato un bel impatto perché poi comunque dicevano che anche la mole di studi aumentava molto poi l'altra cosa che mi ha tirato molto su di morale e sono stati i primi voti infatti nonostante che poi per molto tempo ho continuato ad avere difficoltà a capire i professori perché io ogni volta che dicevano qualcosa io ho sempre il dubbio di aver capito 8 per 18 e quindi non ero mai certa comunque dai primi risultati insomma ho visto che almeno nella parte scritta andavo bene infatti avevamo innanzitutto tutti i giorni un test dei kanji veloce che facevamo proprio in dieci minuti un quarto d'ora poi comunque c'erano sempre dei compiti di solito almeno ogni giorno una pagina di esercizi che poi dovevamo fare a casa e riconsegnare entro di solito una settimana però a volte anche entro il giorno dopo poi dopo i professori ce lo correggevano ce lo restituivano poi ovviamente alla fine di ogni unità sia di grammatica che di kanji avevamo anche degli altri test e quindi pian piano vedevo che comunque sia i compiti che i primi test andavano bene inoltre anche alla fine delle lezioni quasi sempre avevamo anche un proprio mini test che facevamo molto velocemente proprio gli ultimi minuti in cui i professori ci davano una scheda da fare con esercizi proprio molto veloci proprio era proprio una facciata e per esempio di completamento oppure di scegliere la forma giusta tra due o tre poi dopo andavano lì alla cattedra direttamente ci mettavamo in fila indiana e poi la professoressa lo correggeva proprio lì sul momento anche proprio senza voto una cosa così molto rapida e vedevo che anche se avevo sempre il timore di non aver capito nulla comunque vedevo che gli esercizi li facevo bene e a volte riuscivo anche a volte fare tutto giusto altre volte comunque a fare pochissimi errori quindi loro di solito avevano i voti in centesimi e quindi magari stavo sempre sugli 80 sugli 90 e magari se capitava proprio che mi andasse mai magari c'era un compito no che mi andava male insomma riportando i voti in decimi magari prendevo 7 7 e mezzo se proprio mi andava male non ho mai preso proprio delle insufficienze gravi insomma proprio da dire che non avessi capito assolutamente nulla e quindi anche questo insomma mi ha molto sollevato di morale insomma ha fatto molto bene la mia autostima perché almeno dicevo almeno sullo scritto in quello vado bene e poi anche perché io adesso non sono una che sta lì a farsi gli affari degli altri anche mi ricordo sia la scuola che l'università così io generalmente non andavo proprio mai a chiedere i voti degli altri mi facevo sempre gli affari miei però comunque ovviamente quando il professore è lì che distribuisce i compiti e gli dà il tuo compagno di banco a quello davanti e quello di fianco ovviamente insomma lo vedi ecco cioè non è che mettevo lì mi coprivo gli occhi per non vedere i voti degli altri e quindi ovviamente no buttando l'occhio sui vari miei compagni no che erano seduti vicino a me vedevo che insomma anche loro comunque i loro voti a volte erano anche peggio dei miei o comunque erano in linea cioè vedevo che anche loro facevano degli errori ecco insomma non è che prendevano sempre il massimo dei voti poi ovviamente anche lì c'erano quegli studenti più bravi che si impegnavano molto di più che prendevano dei voti molto alti anche quelli che studiavano un pochino meno e quindi avevano insomma ogni tanto prendevano anche dei voti un po non esattamente belli per cui questo ovviamente mi ha insomma sollevato di morale insomma mi ha dato molto coraggio ecco perché potevo perché comunque dicevo almeno qualcosina capisco ecco per concludere tirare un po le somme delle prime settimane di scuola posso solamente dire che sono state sicuramente dal primo giorno che è stato molto terribile sono state comunque sempre un lento miglioramento ecco ovviamente con questo non voglio dire che poi è stato tutta una discesa tutto facile perché comunque anche dopo un po il carico di studio si faceva sentire ecco perché eravamo comunque sempre sotto pressione avevamo test tutti i giorni poi alla fine del trimestre no con tutti i vari esami insomma ero veramente arrivata alla fine che proprio avevo cercato di dare il massimo e dopo proprio non avevo più energie proprio è stato molto faticoso però almeno insomma dal punto di vista insomma dell'umore insomma è stato comunque un miglioramento netto perché comunque dal primo giorno da come ero tornata a casa che volevo fare le valigie scappare via insomma dopo un po di tempo almeno quando tornavo a casa non volevo piangere e ovviamente c'era la fatica dello studio questo sicuramente però insomma alla fine dei tre mesi io se avessi potuto sarei rimasta lì perché insomma è stata comunque un'esperienza bellissima anche se molto dura però poi sì io veramente anche perché Kyoto è una città bellissima per cui finiti quei tre mesi avevo un po la lacrimuccia e dovevo tornare in Italia è stato comunque faticuoso ecco poi dovevo tornare in ogni caso perché comunque scadeva il mio visto turistico no perché potevo fare solamente 90 giorni perché non avevo fatto quello studentesco bene ragazzi io per il momento mi fermo qua spero che questo video sia stato interessante vi sia piaciuto e poi sicuramente in futuro continuerò a parlarvi sempre più nei dettagli di questa mia esperienza di studio in Giappone sicuramente farò un video in cui farò un bilancio complessivo di questi tre mesi voglio fare anche un filmato in cui vi mostro i testi no che avevamo per studiare giapponese e poi magari farò anche qualche video in cui vi spiegherò meglio come funzionavano le lezioni insomma cose del genere bene io mando un bacione a tutti quanti e spero di rivedervi in un prossimo video ciao ciao